Che tedesco Allora, come ci diamo Caitlyn? Dove? Eh! Lanciami! No, no, adesso no, 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 no! Ma Black, ascolti, Macca! Macca, non andare! Ma, vi drogate? Ma, Macca, hai capito che problemi hai? Non lo so Alla fine sono mid, quindi... Un pic ignorante Ditemi un nome di un champion a D Timo Ranged Aspetta, te lo dico io Ma Timo è forte, è quello il problema Aspetta, te lo dico io Allora, ruolo... Fighter Ecco Come fai, termini? Udir mid Va bene Aspetta, devo pensare alle rune, però, perché non hai mente cosa mettermi Te lo dico io, allora AD o AP? AD, press the attack Precision Press the attack È nuova serie, faccio scegliere le rune a Puja Bellissimo Ti direi Triumph, però... So che non me lo dirai, quindi Ah, ma pu... Maury, Maury Va bene Tate zitti Allora Cosa metto? Legge the bloodline Poi metti Cosa fai il bloodline? Quello che dà life steal? Sì Inutilissimo, ma va bene Noi mai O l'assistente O coppa di grazia Scegli tu Coppa di grazia Adesso stai pronto per il secondo ramo Aspetta, la stand devo scegliere Sì Un secondo Ok, dicevamo Poi metti Inspiration Ah, ovviamente Metti Perfect timing Qual è? No, no, scherzavo Metti Extech Flash Come si chiama? Pronuncialo bene Flash No, no, da Da prima Extech Eh? Flash Traficion Vabbè quella roba lì Quella, ok Che schifo, ma va bene Poi, sono molto indeciso Se metterti il dematerializzatore di minion Cosa fai? Ah, quello tipo smite, ok Sì Oppure Mai usato in tutta la mia vita, va Approach velocity Sembra interessante Dai, dammi quella Questi almeno posso toccare Dai, vai, amici Perché sennò Udir Challengerera Va bene Dopo dimmi le lune per Jax che lo uso Toff C'era in italiano o in inglese? C'era in italiano Ovviamente Non so dire che era in italiano Allora, il ramo precisione Te lo so dire in italiano quello Ok, precisione, ok La keystone principale è Schiaccia l'attacco Premi l'attacco Allora, ha un cerchietto Con tante puntine E tre puntine grandi ai lati Attacco sostenuto, ok Quella Poi Dimmi la prima, la seconda o la terza Facciamo prima La banderuola La banderuola Vabbè Sei Jax, è vero? Quindi Sì E quello con l'arco Ok Poi Il La coppa di grazia Che 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 è? Colpo Colpo di grazia Non la coppa di grazia Dominazione Quello che c'ha il tipo col gomito Che fa in avanti così Ok Posso partire? No, anzi Prima di partire Aspetta Voglio dire una cosa Ai vecchi follower Se esistono ancora Se ci sono Verete? L'ultima persona A destra Si chiama TruistBjorn Che voi forse conoscevate Come Se non sbaglio I am Truist Oppure Truisticnik77 Oppure Berserker77 Negli ultimi tempi Di quell'account Perché? Perché è stato permabannato Perché? Perché ha afflammato Ma come ha afflammato è l'importante? Come? Con un programma fatto da me Che generava insulti a random Se volete sapere la storia completa Ditemelo In un altro video ve lo spiegherò È molto bella Fidatevi Detto questo Direi che possiamo partire Sì ma Mauri Mauri papà castoro by the way Ma aspetta Io su dir Ho anche la skin Mamma mia Perché il mio fan me l'ha regalata I soldi dappertutto Comunque a parte tutto ragazzi Sono conscio del fatto che non carico un video da due settimane Forse due settimane e un giorno Perché lo caricherò il giorno dopo Che farò questo video Però Ho perso la cognizione del tempo Cioè ho fatto il video delle rune di Jace E ho detto Ok adesso registro una partita normal E siamo arrivati ad oggi Vi giuro io ho perso la cognizione del tempo Ma quindi sei facendo il numero uno Non ho scuse da dire Dico ho fatto quello ho fatto l'altro Non ho fatto niente Mauri per un youtuber Si prepara i video prima Ecco Così anche se si dimentica Esatto Fa uscire gli altri Tu dovresti stare zitto in tutto questo No zitto tu Ho sempre detto io Andiamo andiamo venite veloci Stato di stun allora no per favore Andiamo giù andiamo giù Andiamo giù Ma io ho sbloccato la W per sbaglio Si ma di stun devo statare seriamente Lo stun è tutto Aspetta Eccola Eccola Pam 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 Ho preso anche la kill Vado back Andiamo avanti Andiamo avanti No cosa No 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 vado back Vado back Ho il vantaggio Posso prendere una spadina Guardalo Oh Ah ma sono contro Zoe è vero Beh è fattibile Pensavo peggio sinceramente Guarda il mio over real come si A parte il fatto che sono stato di E e non di Ecco il primo minion perso sto zitto Non parlo più Maury sai giocare Arrivo Oh il mic è così aspetta Aspetta un attimo allora Con il flash Ah Mannaggia Pam Ignite Pam Mamma cara Sono fortissimo Oddio Vedessi arrivano i nemici Aspetta l'ex flash L'ex flash Ah Preso Ok Eccomi Timo è mio Timo è mio Ah Hanno surrendato Timo Ok non è che ho toccato Va bene Palla Zoe Va bene Guarda mi spinno le axi Beh ragazzi Easy Agaricatore Agaricatore Ma ci rendiamo conto Bove Posso dirti come ti danni hai fatto se non lo stai guardando Dimmelo Allora io penso che i minion tutti Va bene A fine game facciano sui tipo 10.000 danni ai champion Ok Tu ne hai fatti 1.275 Cioè due autoattacche Un autoattacche di Pugia crittato C'è Maca contro Maca Cosa è Maca contro Maca Johnny Maca Dove andate venite venite No no ho attaccato su clash per sbaglio madre Madre sono deficiente Pronti? Da sopra o da sotto? In mezzo 69 Sotto va bene dai Why 69 Mauro Vai adesso andiamo qui Dove sono tutti? Non c'è nessuno andiamo qui Pam Aia Facciato per niente va benissimo Qualcuno flash e stun di quelli Vai Qualcuno flash Pam Vai la prendo eh la prendo La prendo la prendo la prendo Tutti che flashano benissimo Guardate che la ri-stunno di nuovo adesso È morto XD No vabbè Vado fk Ciao ragazzi Salve bello Venite a pulare Ci vediamo al prossimo video Mettete like e condividete Sì sono contro rive con tre pozze e non neanche una adesso Mettete Ho visto una canna via Oh Oh Oddio No ha flashato Quanta vita È morto Sono fortissimo Voi non avete visto niente ragazzi è fantastico Dude Sto stronto Questa roba qua Che madonna buona Io vorrei tantissimo in questo momento un salato Maca tu sei Se devo dirlo Thamkent Bot Support Col face rush Sì lo so E ti stai lamentando di uno che c'ha una runa messa bene Finchini emoji La messa bene X flash No L'ha missato il minion No 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 Maintain guard Temei no tsukeva Che danni fa Udy what the fk Maca cosa ci fai al 2 Non lo so Ma che 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 merda Ma che merda Ovvio cioè scherzi Non penso di aver capito Ma davvero Sì Basta non ricordo più ho capito Ma è fortissimo Udyr È fortissimo Vedete Udyr con questa qua è fortissimo No ma seriamente io pensavo di trollare sto game Cioè di sti game anche quello di prima Ma Maury mettiti qua No vado a fare il blu aspetta No ma Appena un X flash fu già aspetta un attimo Ma dai ma a capo Bel flash Appena arriva la delassiamo Guardate quelle parole Facciamo smettere di giocare Vedete Secondo me è già FK comunque Aspetta Parto io parto io parto io Vi arriva la mia comunque Ah non importa che venga Vabbè andiamo Ho il suo blu anche quindi Andiamo Ha voltato Via letteralmente Ma dai che flashati io Oh 5 secondi comunque non ce l'ho ancora Non c'è Tornerà Allora avrà messo la ward qua Pega paura Spero che tornerà Dude The train is on the way Io lo aspetto qua Ne ti avvisi Ah si si ma anche io Lo faccio altri intanto Ecco Eccola No puccia Ma che ti fai mid Ok a posto Mi sono dimenticato che non faccio danni Devo un attimo beccare Poverino però C'è Caddx scout out Io ti ho avvisato Va bene Ok Pam Beh bella Premi e premu e premie Premi e Non premia No No Ma che carini i minion con lo scugio di A stellina Ok intanto i bove guarda i minion che sono carini e bellini Maka vale addosso Maka vale addosso Continua 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 Possete dire una cosa Maka Fai schifo Ma che non c'è neanche la sidestone per dire Ma Maka non hai la Le mie orecchie Proprio avrei capito perché ho demacca Ma quindi In King Amoji che dobbiamo fare Vincere Faccio la trinity solo perché dobbiamo vincere se no fare un altro item di life steal però adesso voglio vincere e voglio impegnarmi Vai Vai Maka Oh c'è chi ti qua Qui Odiamo su tutti qua Quale ulti Quale ulti ho fatto mamma Pugia ti prego salva la partita Tanto su Maka non ci conto Non ci conto Infatti Bello che Maka ha da W ancora quindi Leccalo Mamma mia Maka scappa Maka corri Maka corri 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 Non fermarti Vai in base a piedi Sono più veloce a piedi tranquillo Ok Dopo il coso di Lord qui In saluti di Lord Dominic Bravissimo mate Povero Rage blade 2v5 dai Andiamo andiamo Dai Siamo morti E cos'è Sì quella Lo stunnato lo stunnato Oddio va bene va bene Mi sono sacrificato per la patria Wtf Intanto Bove Bove No Bove batten Ma perché Voglio morire Restare Restare Rompigli le balle Rompigli le balle vai 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 Grazie A posto Ricorri ricorri male Mi giro Mi giro mi giro Non mi giro Testimone di Geova Che schinguetta roba Di cosa sono morto Wtf Non ha danny overtime Ah no Ho la death dance Come non detto Hai non ucciso il Baron? L'uomo Ragn Ci sia stato Non si sa Dobbiamo rispondere al loro tentativo di push Ammazzandoli Ammazzandoci Eh appunto Non andarci Maka No 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 Maka Sei un idiota Non male che c'è Bove Invece Nani Non posso ingaggiarli perché ti dimmi shot Eh sì ciao Questa che gli ho mandato il sentinello Cosa? Vabbè Sei un coglione Cosa sto guardando Superminami come shot Ehm Interferenze Ehm 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 Ragazzi io ingaggio No? No no Ce la faccio o la faccio? Ehm Ehm Ancora? Eh vabbè Ehm Ehm Eh butta Maka Così muore prima lui dai Eh Buttalo Vai 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 Maka Ma prendi quella però Testimone di Java Ma Dio Ma è morta è morta Ma è Maka è full vita Maka è full vita Come? Cioè è quello che sono puntato E soprattutto se ulti sui nemici Maka Vai su Caitlyn Cioè cerca di non accappare lei Sì che Che io fai ulto Maka Cioè E soprattutto non andartene Cioè muori davvero Buttati e muori Fai di tutto per morire Raga Raga con il mio scritto Arrivo Arrivo Oddio Però Matteo sei un po' autistica MAADRE E allora Mi ha preso quella W e non potevo muovermi Certo Oddio Oddio muore No Oddio Mi ha vinto No Mi ha vinto Un fight quasi E all'inizio si Costa tantissimo Eh ma sul di settore no proprio E' un po' buttato UUUUUUH Doppio stopwatch No 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 ti prego no Matte Maka ti amo Ti amo Maka Ti amo Maka Oh mio Dio Qualcuno rimanga Qualcuno rimanga Qualcuno rimanga Matteo rimani top Madonna Ma che ti amo Ma che ti amo Rettiro tutto Andiamo 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 Maury Maury andiamo Uuuu mi chiamo Maury si 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 Full point Tranquillo Tranquillo The gates are open Perché tanti tu Va bene Perché tanto la... Vado su di lui eh Se si viene addosso Andiamo al Baron Pugge Va bene Va bene Ehi Ehi Dammi al Baron vai Barron Barron Sì Si iniziano i deluditi Questi Anzi no Lo sciottiamo Adesso Adesso L'ho usata L'ho usata L'ho usata Ho preso un colpo E' morto vabbè Non so come Gli ho dato uniti ed è morto Tu resta ancora la Matte Dai Matte poveretto Non sta facendo niente Meglio così E' qua E' qua E' quello il problema Ti lancio Ti lancio Ti lancio No 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 Picchia le torre La finiamo Lancia Macca Lancia Macca adesso Lancia Macca verso Caitini Rompigli le balle GG GG Abbiamo vinto Come abbiamo vinto Mamma mia Easy Ha vinto Macca sto game Basta Easy Easy Che cosa? Ha vinto Macca sto game Con quel fight Basta Basta Abbiamo vinto Non ti voglio più vedere con Tankenci comunque Bene Sto sudando Io vado via No no niente da dire Macca No niente Devi stare zitto No devi stare zitto Ci vediamo al prossimo video ragazzi Basta Ciao 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 Ciao